L'ospedale di Polla è interessato negli ultimi 15 anni da continui tagli e è ora di invertire rotta? L'ospedale di Polla sicuramente, senza stare nel dettaglio, è rientrato nelle difficoltà che ci sono state nel sistema sanitario campano, blocco del turnover per una fase, riduzione degli investimenti. Quando ci sono troppi debiti in una regione scatta lattia al cubo, tagli, tasse e ticket purtroppo, tagli ai servizi, tasse per i cittadini e ticket per chi deve avere servizi sanitari. Se il percorso che la regione ha intrapreso continuerà ad essere confermato in termini finanziari, noi ci rendiamo conto che questo sblocco sarà ancora più consistente e darà ulteriori possibilità a chi opera in queste strutture. Quando avevo già messo così, al nuovo plesso sperlagriero di Lago Negro che potrebbe entrare in conflitto con quello pollese, almeno è nel timore del popolo. Abbiamo troppi problemi sulla sanità, mi sto occupando di quelli, quindi non so, c'è una dinamica nazionale, c'è stato un decreto, ci sono anche tanti retroscenisti su questa materia, che hanno descritto questa vicenda della riorganizzazione della rete, anche delle strutture giudiziarie con argomenti che io smendiscono. C'è stata una relazione istituzionale dei territori, del Consiglio Superiore della Magistratura, ci sono stati luoghi importanti delle decisioni. Poter pensare che qualche piccolo grande politico abbia compilato questa mappa mi pare del tutto improprio. Grazie. Grazie.